ciao ragazzi ciao a tutti ragazzi e bentornati qui con captain of industries andiamo avanti piano piano andiamo avanti quelle due puntate a settimana dove siamo arrivati abbiamo fatto un po di roba ultimamente abbiamo fatto tanta roba abbiamo fatto la produzione benzina nuova la produzione metano abbiamo i mezzi a metano che adesso piano piano dovremmo trasformarli tutti abbiamo una mega produzione d'acqua che dividiamo un po per tutta la mappa probabilmente ne faremo un'altra verso qui dopo più avanti non lo so qui abbiamo la nostra depurazione dell'acqua sporca e compagnia varia qua addirittura abbiamo il coso per trasformare l'immondizia in bruciamo l'immondizia così non lo dobbiamo buttare in acqua qua c'è la nostra produzione di alimentari che portiamo direttamente ai nostri navi che tramite nastri produzione carta e vetro produzione ferro che dovremmo aumentare piano piano produzione vetro che potremmo aumentare piano piano c'è la roba c'è da modificare da ampliare tanta roba ma c'è da fare anche tanta roba che significa che prima facciamo e dopo nel periodo morto in cui aspettiamo i prodotti che vengono ricercati andiamo a aumentare un po la roba perché sono arrivati i cosi nuovi qua i forni nuovi è arrivato qualcosa nuovo come l'elettricità che adesso andiamo a vedere vediamo un po dove siamo e questo qua è arrivato il coso che sfrutta il vapore a bassa pressione che ancora non abbiamo messo però dovrebbe essere questo è quello il primo però forse ci siamo anche con il secondo dovremmo andare a vedere no dobbiamo però siamo vicino vicino dobbiamo andare a fare microchip o per meglio dire schede elettroniche 1 e ci serve la plastica ci serve anche il silicio che faremo oggi dovremmo andare a fare gli snack che sono questi snack e poi la roba che viene impacchettata così possiamo fare qualche qualche contratto contratto che voglio fare anche con le scorie ma quello è ancora molto facile non ci vuole tantissimo due tre cose da fare ce li abbiamo direi che possiamo iniziare subito e cominciamo direi che con il contratto contratto che questi perché sono fermi qua perché non hanno da buttare via sta roba perché no tu dove questi qua dove l'avete trovati voi qua ma l'avete trovato qui e questo non viene svuotato perché non so dove buttarlo questo non butta tutto tutta anche questo ok buttiamolo lì che stiamo allargando qua così che la nostra popolazione arriva a proposito abbiamo trovato una di quelle fontane da mettere a centro la andiamo a mettere subito una vediamo un po allora possiamo mettere quello con la torre centrale possiamo mettere quello con i giardini un altro coso con i giardini poi abbiamo questo con la addirittura con la con la fontana all'interno direi che cominciamo con questo lo andiamo a costruire ci voglio un po di materiale 200 di bianchi e 200 di mattoni ma questo non è un problema ce li abbiamo proposito quali facciamo e detto un po allora puntata precedente abbiamo fatto anche la roba che serve per casa che adesso piano piano aumenta allora cominciamo con devo fare gli snack per fare gli snack abbiamo bisogno di mais sale ma è solo patate sale olio plastica e facciamo gli snack è un po di biomassa che andiamo a bruciare possiamo farlo con il maestro con le patate con il maestro mi è fuori un po di più con le patate un po meno perché ne vengono fuori 36 invece dei 48 e 3 di cosa che è uguale dobbiamo fare anche l'olio per fare l'olio abbiamo bisogno di semi di soia o di colza colza che se non sbaglio ancora non abbiamo già trovato anche la colza perfetto ok allora mandiamo via la nostra nave vediamo un po dove possiamo arrivare 430 430 questo è 470 manco per mandarla perché perderemo 260 qua possiamo mandarla vai ok nel frattempo non so se era piena magari al ritorno consegniamo i 300 che dobbiamo fare e dopo iniziamo un altro ok dovremmo anche andare a svuotare tutto quello che abbiamo al porto ma quello ci possiamo non ce lo possiamo occupare un po più avanti ok allora abbiamo bisogno di plastica la plastica la facciamo con abbiamo bisogno di o nafta o etanolo etanolo che possiamo fare con il mais attraverso sto coso qua facciamo fermentare il mais che diventa con un po di ossigeno no non è ossigeno questo questo è sia ossigeno con ossigeno diventa etanolo è un po di cosa lo mettiamo mettiamo in uno di questi qua abbiamo detto che per fare questo abbiamo bisogno di uno di questi allora mettiamo qua dentro il mais e maize maize con un po di maize maize con un po di acqua a diventa questo è un po di mangime per animali mettiamo dentro quei ossigeno è diventa etanolo e poi un po di scarico ok quanta plastica però abbiamo bisogno e questo è un problema etanolo facciamo plastica dov'è cosa della plastica qua plastica allora ne facciamo con 12 facciamo 48 abbiamo bisogno di 3 per fare i medicinali 3 per fare i snack 3 6 per fare i microchip e già sono 6 e 6 12 altri 6 per fare altro pezzo di medicinali perché possiamo fa anche medicinali 2 no 1 quello bianco ok e sono 12 giusto 3 6 e 6 e 6 18 18 per adesso più avanti poi abbiamo bisogno di farne ancora tanti ma per adesso ci bastano i 18 allora ne basta uno da 48 uno da 48 basta quanto etanolo e bisogno tu 4,5 questo quanto me ne vengono fuori 4,5 che significa che questo qua dobbiamo 1 2 e 3 e siamo più o meno lì ok va bene che tu hai bisogno di etanolo e di cloro ok allora tu invece tu ci metti qui quanto me ne fa questo 9 e questo ne ha bisogno 9 che significa anche questi 3 ok 3 di questi e poi abbiamo bisogno qui ehm mais che adesso glielo faccio arrivare così poi vediamo allora mais quello che viene fuori da qui lo buttiamo qua dentro perché adesso lo faccio provvisorio quello grande che voglio fare vorrei farlo qua così abbiamo un collegamento diretto da qui mettiamo il mais qua dentro e lo facciamo qui più avanti lo andremo a fare direttamente con la canna del zucchero canna di zucchero che ci produce tanta tanta roba in più possiamo posso anche farvelo vedere etanolo zucchero qua facciamo lo zucchero facciamo etanolo dallo zucchero che con 15 di canna da zucchero me ne fa 12 12 12 con questo poi me ne fa 9 invece di andare a consumare tutto quel mais facciamo facciamo molto prima e poi abbiamo canna da zucchero che la canna da zucchero non la diamo da mangiare nessuno ma sola esclusivamente per trasformarla ok questo devo spostarlo un pelo indietro perché ho bisogno di sì così va bene no così non va bene ok ok hoppa e poi ok allora con questo facciamo gli scarichi dove sono prendiamo uno di questi lo mettiamo qua e uno di questi lo mettiamo qua etanolo allora abbiamo bisogno di uno di questi direi che va bene ok questo aspetta questo è cloro cloro il cloro che entra se non sbaglio solo qui è questo che entra qui abbiamo detto che ne viene fuori da qua 4,5 9 va bene questo co2 9 no direi che qua va bene ok abbiamo qua uno scarico di 24 che è poco andiamo a mettercene uno di questi tanto questa roba qua è tutta provvisoria perché dopo andremo a metterci quello un po' più andiamo a fare quello con un po' di potenza in più anche perché abbiamo molto ma molto bisogno di plastica ok andiamo a farlo allora abbiamo detto che è qui ci va mais mais oh abbiamo poco poco personale andiamo a aumentare questo infatti andiamo a vedere la nostra la nostra fontana guardate un po' che bellina la nostra fontana spero che acqua di riciclo perché altrimenti consumiamo dell'acqua no spero di no vediamo come siamo messi no l'acqua c'è va bene sta pure piovendo siamo perfetti allora aspetta che la mia nave diritto è già tornata sì aspetta che stacco questi fin quando non allora abbiamo detto che qui ci va mais qua mettiamolo qui questa è la ricetta ce l'hanno stanno già lavorando mi manca solo dell'acqua acqua che posso prendere wow è comoda guardate un po' acqua che prendo da qui allora mettiamo dentro il mais mi viene fuori questo il mangino va qui che in un modo dell'altro dobbiamo buttare da qualche parte questo cos'ha questo ha biomassa questo non è fatto vediamo se ci arrivano soprattutto ma direi di sì allora facciamo questo e qua ci mettiamo questo un posto ok qua abbiamo ci mettiamo un po' di cloro e qua viene fuori la plastica che viene fuori in automatico diamogli la ricetta che in questo caso gli diamo questa e adesso vediamo quando viene fuori qualcosa colleghiamo colleghiamo anche questo perché me l'ho dimenticato che altrimenti questi ragazzi non funzionano mi sono dimenticato questo non me l'ho dimenticato niente allora mi serve uno di questi che metteremo qui ok adesso sì vai va bene adesso piano piano gli dovrebbe arrivare la cosa alimentari qui alimentari che faremo con ok allora cosa possiamo fare qui come alimento abbiamo questo mi serve qua e andiamo a fare gli snack tiriamo via questo perché abbiamo bisogno allora mettiamo questo qui mettiamo qua dentro dove sei snack questo lo giriamo snack che vengono fuori da qui ok no un po' più su ok allora per fargli snack abbiamo bisogno di patate o mais già sono due poi abbiamo bisogno di plastica e olio allora plastica la facciamo arrivare qui uno e due rimettiamo qui e qui questi hanno bisogno di uno di questi ok e uno facciamo abbiamo detto che facciamo vabbè quello che è oh questo è quello sbagliato abbiamo bisogno di questo questo qua e questo qui e questo è il primo che entra ed entra qua ok uno e due questa è la plastica abbiamo detto eh no a sto punto no perché questo non va bene la plastica la facciamo interrare da qui aspetta che devo metterla al contrario così così questo ehi là facciamo così e mi manca solo l'olio perché eh no mi manca anche il sale 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 che faccio arrivare da qui perché ce l'ho infatti qui ho un po' di roba che continuano perché poi mi serve anche per un'altra cosa vediamo qua nel frattempo come si è messi ho la plastica arrivata benissimo ho bisogno di uno di questi che mi faccia l'olio l'olio però con l'olio posso fare anche le torte torte programmiamo anche le torte come funziona torte ho bisogno di uno di questi che poi è uguale a quello che mi fa la farina qui no si andiamo a prenderci questo facciamolo così per fare le torte abbiamo bisogno di farina zucchero olio le uova è la frutta frutta che posso mettere in uno di questi mi faccio arrivare direttamente alla frutta poi dopo qua mi ci faccio entrare le torte a questo punto facciamo così sì questo con l'olio mettiamolo qua allora cosa ha bisogno l'olio che mi arriva da qui torte abbiamo bisogno delle uova che mi faccio arrivare da lì la frutta che mi arriva da cosa l'olio che mi arriva di là la farina che mi faccio arrivare e lo zucchero zucchero che è un prodotto di questi sfusi che dopo faremo però adesso non ce l'abbiamo che significa che lasciamolo così allora mettiamolo vuoto ok e direi che c'è tutto questo lo mettiamo qua perché anche questo bisogno di copie uno due questo possiamo fare aspetta l'olio quindi possiamo fare sì di soia che di colza facciamo 1 e 2 va bene ok faccio dopo questo lo mettiamo più o meno qui qui devo stare attento come mi esce l'olio dopo un po' più qua mettiamolo qua e questo mettiamo qua così ok uno di questi lo mettiamo qui così così questo me lo faccio arrivare qua e dopo in caso mi faccia arrivare anche questo da qui entra qua questo entra qui ok l'olio entra da qui entra qui e siamo a posto allora facciamo la prima parte facciamo anche questa perché nel frattempo mi è venuto in mente che con l'olio possiamo fare anche il diesel questo per adesso lo lasciamo tanto non serve mi serve però aspetta come si è messi mi serve questo mi serve questa parte qui questo non mi serviva ma ormai affatto sì 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 le uova per adesso non mi servono questo spento spento alla plastica abbiamo detto qui abbiamo detto che è per fare questo abbiamo detto patate o o mais qua patate vediamo se ne abbiamo qualcosa in giro che possiamo fornire oh lo prende da qui me lo butta dentro qua vabbè dopo colleghiamo con i nastri qua c'è mettere gli snack che vengono fuori qua direttamente l'olio questo diventa questo con un po' di etanolo mettiamo qua quello che è in più sì potevamo fare qua perché vedete che adesso questi non producono più possiamo fare uno di questi adesso questo è messo male ma comunque vai ci va uno qua a fianco non ci va mettiamolo qui contrario anzi mettiamolo qui tanto non è che mi interessa chissà quanto l'estetica qua perché ok la priorità va qui e tutto quello che è in più va qua perfetto così l'etanolo in più lo portiamo qui e questo mi fa nel momento in cui qui dell'olio ne ho troppo mi fa diesel questo non devi tenerlo pieno però vabbè no qua non ce ne devi proprio portare tu via spento vediamo deve arrivare del materiale qui il gas non ho capito questa cosa qua questo prova ad arrivare qui infatti abbiamo un problema perché a furia di mettere i nastri qua bassi non abbiamo più lo spazio per fare arrivare i nostri camion che significa che dovremmo fare una modifica e la modifica l'avevo quasi mezza predisposta andiamo a spostare questi qua sopra e qua facciamo un po' di spazio così abbiamo un po' di spazio in più e così che almeno loro riescono a passare facciamo questa modifica qui allora tiriamo via un po' di roba direi che tiriamo via da qui tutto questo sì no che cacchio ho fatto che idiota che idiota ragazzi ho sbagliato vabbè ormai quella che è fatta è fatta quello che è fatto è fatto non è un problema andiamo a copiarci questo a suo punto vediamo copiamoci intanto questo dai nel frattempo qua abbiamo messo il fertilizzante tipo 2 e qua abbiamo messo per 1 2 3 e 4 il fertilizzante biologico quello che viene fuori da qui gas che finalmente stiamo smaltendo è questo che speriamo di fare al più il primo possibile adesso nel frattempo dovrebbero iniziare arrivare anche di nuovo dei prodotti qualcosa qui si è bloccato non so cosa perché ecco è come fammi vedere allora questo era patate e qua è patate questo abbiamo detto che è mais e qui è mais questo era frumento e qui è frumento e questo è oh semi di soia e questo è semi di soia questo cos'è qua semi di soia ok questi li facciamo pure così siamo a posto qua c'è la frutta dopo se abbiamo no qua c'è la verdura se poi abbiamo la frutta la mettiamo qua a fianco oh l'avevo già predisposto qui vediamo un po' come si è messi ok qua il mais arriva qui arriva pure del mais dovrebbe arrivare sì allora un po' lo buttiamo dentro qui così che facciamo per questa roba qua i snack stanno già arrivando benissimo la plastica è arrivata snack sono arrivati plastica è arrivata benissimo ok io direi che possiamo già iniziare a migliorare qualcuna di questi iniziamo con le prime tre ok facciamolo veloce iniziamo a fare le serre che le serre servono tu perché non puoi raggiungere chi vuoi raggiungere l'immondizia qui no l'immondizia va qua non si butta l'immondizia qui va qui ok si è mosso si ok si muove per il coso numero 1 direi che copiamo questo lo mettiamo qui mettiamoci in linea ok allora vediamo se con questo riusciamo a farlo ok eccolo qua abbiamo bisogno di vetro plastica e rame ci arriva quasi tutto tranne che la plastica che me la faccia arrivare per adesso con uno di no questo lo tiriamo via mettiamoci direttamente uno di questi plastica che me la faccia arrivare con uno di questi direi qui aspetta mettiamo questo qua e questo qua ok qua ci mettiamo la plastica piano terra mi tocca per adesso dopo faremo anche con i nastri ma per adesso lo facciamo così questi li giriamo un vetro che arriva a due e lo lasciamo a due ok e rame 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 che qui gira gira 1 perfetto fa vedere mi serve qui sì ok questo a 1 e questo a 2 questi mi servono tutti anche questo e anche questo mettimi fammi il pieno ok vedo arriva rame arriva adesso dobbiamo solo c'è qualche parte che è questo qua c'è una parte non veloce che è questa la parte nuova che ho fatto questo invece è tutta una velocità e questo è tutta una velocità ok perfetto abbiamo anche microchip numero no schede come si chiama schede verdi schede elettroniche numero 1 perché qua ce li abbiamo ma abbiamo quelli due a proposito qua è pieno non è che ne abbiamo qua no hai già scaricato benissimo allora carichiamo per carichiamo per qui peccato che non possiamo caricare contemporaneamente non ho capito questa cosa qua vediamo qua come si è messi l'olio c'è sì e questo produce addirittura abbiamo gli snack snack che a sto punto mi sa proprio che posso collegarlo mi sa proprio di sì dai allora gli snack devo salire a due ce l'ho uno da due non ce l'ho uno da due allora facciamolo direttamente sì qua u 1 2 ok 1 2 perché sei salito a 3 allora 1 2 allora io qua me l'ero preparato dove sei devo girare sotto questo ok ok facciamogli arrivare anche gli snack ai nostri naufraghi questo 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 oh sono arrivate anche gli snack ragazzi imbis chiamati imbis comunque sono gli snack guardate un po' allora l'unica cosa che adesso manca sono la frutta la torta che senza frutta non possiamo fare e le salsicce che andremo a fare nel momento in cui abbiamo troviamo un po' di roba facciamo tutta questa cosa qua ah una cosa volevo fare facciamo un contratto un contratto veloce 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 non so come si è messo quella puntata ma probabilmente siamo un po' lunghi speriamo di no qua ci stiamo sì ci stiamo ok contratto che faremo così noi esporteremo scorie 1080 di scorie e ci ritorna indietro 436 di acqua acida acqua acida che abbiamo bisogno qui perché come vedete ne abbiamo poca cioè tutta quella che facciamo non basta per alimentare questi è vero che comunque qua siamo pieni non è che però un po' di più non sarebbe male allora per fare il contratto facciamo intanto consegnami questo abbiamo bisogno di uno di questi e poi qua abbiamo bisogno di questo cos'è questo è pezzo allora qui metteremo scorie adesso c'è questo cosa qua davanti che non posso metterci mettiamolo qua mettiamolo qui mettiamoci uno di questi ok e qua ci mettiamo uno di questi qua ci mettiamo tutte le scorie che adesso eliminiamo da qua scarica tutto scorie zero e così facciamo questo questo mettiamo qua questo qua e questo qua tiriamo via questo 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 andiamo a fare il contratto contratto oh dobbiamo prima arrivare a coso 3 beh nel frattempo qua me lo posso anche riempire non è un problema quale è questo 144 ok la nave è arrivata ragazzi nave è arrivata qui abbiamo scorie 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 e qui tornerà poi l'acqua acida nel frattempo sta caricando guardate un po' il carico torniamo via sto coso ups via c'è anche la il radar guardate un po' oh guardate un po' c'è anche il coso per la la cosa di di emergenza la scialuppa di emergenza ok nel frattempo ho spostato anche la mia produzione di plastica perché qua faceva fatica arrivarmi il mais me lo sono fatta arrivare da qui l'ho posizionata qua tanto prima o dopo la piazzeremo tutta qui andremo a cambiare fare anche qui il coso per il medicinale per quanto riguarda medicinali 1 2 3 andremo ad ampliare qua faremo più grande e qua siamo molto più comodi possiamo anche collegare poi un nastro con la plastica che viene direttamente giù allora parte la nave si è partita la nave adesso mi arriverà l'acqua acida che poi andremo a collegare qui e poi abbiamo fatto direi che questa puntata la chiudiamo qua perché è venuta molto lunga speriamo che la taglio ve la faccio un pelo più corta noi ci vediamo alla prossima un salutone ciao 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 ciao